Senza neanche aver mangiato. Si ritrovò a dire ad altavoce Adesso so come si sente un pezzo di pancetta quando viene improvvisamente tirato fuori dalla padella con una furchetta e messo in dispensa. E Dory rispose Tu non sai proprio niente! Perché la pancetta sa che presto o tardi tornerà in padella. Ma noi è meglio di no. E poi le aquile non sono forchette. Oh no, non sono per niente ochette. Eh, forchette, voglio dire. Farfugliò Bilbo rizzandosi e sedendosi guardando ansiosamente l'aquila che stava posata lì accanto. Si domandò se avesse detto qualche altra sciocchezza e se l'aquila si fosse offesa. Non è molto saggio offendere un'aquila quando si ha solo la statura di un hobbit e ci si trova di notte nel suo nido soprattutto. L'aquila si limitò ad affilare il becco su una pietra e a lisciarsi le penne non prendendolo in considerazione. Poco dopo giunse in volo un'altra aquila. Il signore delle aquile ti prega di portare i tuoi prigionieri al gran ripiano. Gridò l'aquila e ripartì di nuovo. L'altra invece prese d'ori e in volo lo portò via con lui nella notte lasciando Bilbo tutto solo. Estenuato com'era egli non poteva fare a meno che domandarsi cosa il messaggero avesse voluto dire con prigionieri e cominciava a pensare che sarebbe stato dilaniato a cena come un coniglio quando fosse venuto il suo turno. L'aquila tornò lo afferrò piantandogli gli artigli sul dorso e si librò di nuovo in aria. Questa volta volò solo per un breve tratto. Bilbo fu messo giù tremante di paura su una larga terrazza di roccia sul fianco della montagna. Non c'era modo di raggiungerla se non volando né modo di lasciarla se non gettandosi da un precipizio. Lì Bilbo trova tutti gli altri seduti con le spalle rivolte alla parete della montagna. C'era anche il signore delle aquile e stava parlando con Gandalf. Tutto sommato si poteva concludere che Bilbo non sarebbe stato mangiato. A quanto pareva lo stregone e il signore delle aquile si conoscevano ed erano anche in buoni rapporti. Di fatto Gandalf si recava spesso sulle montagne. Una volta aveva preso servizio alle aquile curando una ferita inflitta da una freccia al loro signore. Così, in sostanza, prigionieri significava solo prigionieri salvati dagli orchi. E non prigionieri delle aquile. Mentre Bilbo ascoltava le parole di Gandalf si rese conto che finalmente sarebbero scampati per davvero a quelle tremende montagne. Gandalf stava discutendo con la grande aquila un piano per trasportare lontano i nani lui stesso e Bilbo e depositare tutti quanti molto più in là nel loro viaggio attraverso le pianure sottostanti. Il signore delle aquile non voleva portarli vicino a luoghi abitati dagli uomini. Ci tirerebbero contro i loro grandi archi di tasso disse pensando che diamo la caccia alle loro creggi e in un'altra occasione avrebbero ragione. No, siamo lieti di privare gli orchi del loro divertimento e lieti di sdebitarci con te ma non rischieremo la vita nelle pianure meridionali per dei nani. Benissimo disse Gandalf portateci dove e quanto lontano volete allora vi dobbiamo già molto ma nel frattempo stiamo morendo di fame. Io sono quasi morto disse Bilbo con una vocina così debole che nessuno odì. A questo si può forse porre rimedio disse il signore delle aquile più tardi sul ripiano roccioso avreste potuto vedere un fuoco vivace e attorno ad esso le sagome dei nani intenti a cuocere un buon arrosto mentre un delizioso odorino si levava in aria. Le aquile avevano portato su rami secchi come combustibile e conigli, lepri e una pecorella. I nani fecero tutti i preparativi Bilbo era troppo debole per aiutarli e comunque non era molto bravo a scuogliare conigli e a tagliare carne essendo abituato a vedersela consegnare a casa dal macellaio pronta per essere cucinata. Anche Gandalf se ne stava sdraiato dopo aver fatto la sua parte nell'accendere il fuoco poiché Oyn e Gloyn avevano preso le loro scatole di esche. I nani non si servivano mai di fiammiferi. Così finirono le avventure nelle montagne nebbiose. Presto Bilbo ebbe lo stomaco pieno e di nuovo a posto e sentì che avrebbe potuto dormire beatamente anche se in realtà avrebbe preferito una bella fetta di pane imburrata a tutti quei pezzi di carne allo spiedo. Raggomitolato sulla dura roccia dormì meglio di quanto avesse mai fatto nel suo letto di piume ma per tutta la notte sognò casa sua e nel sonno girò per tutte le stanze cercando qualcosa che non riusciva né a trovare né a rammentare che aspetto avesse.